Come avete intuito dalla copertina, torniamo a parlare di un brewing, non tanto per quanto riguarda il processo produttivo in sé, sapete che appunto quello è un compito che lascio ben volentieri a canali molto più informati e preparati di me, ma appunto lo scopo di questo canale, come recita il nome stesso appunto del progetto, è il lato degustativo delle beer e ne approfitto ringraziando l'amico Matteo Home Brewer che mi ha mandato alcune delle sue produzioni per parlare un po' dello stile, in questo caso delle Baltic Porter, di cui abbiamo già parlato in passato ma faccio volentieri una ripassata di questo stile, e per appunto affrontare come al solito l'argomento degustazione, in questo caso di una Baltic Porter per l'appunto. Vediamo come al solito la scheda della birra, scheda un po' ridotta perché appunto in questo caso si tratta della scheda dedicata alle birre, un brewed. Non viene riportato un nome in particolare di questa birra, ma lo stile appunto quello delle Baltic Porter, categoria 9C del BJCP per avere appunto un riferimento, 9 quindi categoria ricordiamoci delle Strong European Beer, credo alcolico, non è riportato su questa etichetta che appunto è ancora una bottiglia in versione così di prova, da degustazione, quindi non ci sono le informazioni. Il bicchiere suggerito è, allora, per le Baltic Porter direi pallone, è vero sì le Porter vanno solitamente nelle pinte anglosassoni, ma preferirei, data la complessità e la ricchezza di questo stile pallone, o visto che vorrei fare un assaggio un attimino più approfondito, ho scelto un tulipà, un tulipano abbastanza piccolo, e sì, si tratta di un primo assaggio. Come al solito partiamo dalla parte bassa della scheda con alcune precisazioni. Come mi è già capitato di dire in molti video, credo che ci sia da distinguere i bicchieri utilizzati perché tradizionalmente, storicamente, quella birra viene servita in quel bicchiere, e invece le caratteristiche tecniche che alcuni tipi di bicchieri potrebbero appunto conferire, quindi modificare la degustazione. In questo caso i bicchieri a chiudere, secondo me, possono un pochino aiutare a concentrare gli aromi. Non è che una birra spenta al naso diventi magicamente esplosiva in aroma se il bicchiere è a chiudere, però appunto potrebbe in certi casi migliorare. Detto ciò appunto, siccome Matteo mi ha inviato queste, questa e altre birre che ho già bevuto, ma una sono riuscito a tenerla e a resistere fino alla registrazione di questo video, e appunto siccome mi ha chiesto anche un parere sulle birre, ho pensato così per analizzarle un po' meglio di prendere appunto questo bicchiere, che appunto è un bicchiere a chiudere. È un vecchio bicchiere brandizzato Brewdog, però appunto mi piace molto perché è piccolo, e anche versando piccole quantità di birra si può fare un'analisi precisa, cosa che per esempio sul fattore schiuma, nei bicchieri molto grandi, gli stessi teco per esempio con campioni molto piccoli di birra, potrebbero diciamo non valorizzare particolarmente la schiuma, ma più che altro perché appunto c'è una grandissima superficie di vetro, una bassa quantità di birra da analizzare, mentre invece il bicchiere piccolo può avviare al problema. Per fare un veloce ripasso delle Baltic Porter mi sono aperto qui la pagina del BJCP, dove ci sono alcune informazioni appunto su questo stile. Vi rimando in ogni caso alla puntata dedicata appunto, abbiamo fatto tutto un passaggio sulle birre a bassa fermentazione, toccando appunto anche le Baltic Porter, che ricordiamoci a differenza di Stout e Porter e stili derivati, sono appunto lager, quindi sono birre a bassa fermentazione, mentre Stout, Porter e così via sono appunto ale, birre ad alta fermentazione. Anche sulle differenze o la storia comunque che ha portato un po' ai due diversi nomi, Stout e Porter, ne abbiamo già parlato in passato, c'è una lunga puntata di un annetto o più forse fa, vi lascio anche quella nelle schede qui a fianco. Ma appunto per quanto riguarda le Baltic Porter, come ricorda il BJCP nelle Overall Impression, è una birra che ricorda i sentori flavor da una English Porter, con una più alta OG, con una original gravity, una densità del mosto più alta, e quindi un contenuto alcolico più importante. è very complex che dice multi-layered, quindi con una complessità multistrato di malto e frutta dark fruit, potrebbe ricordare, quindi la frutta scura. Per quanto riguarda l'aspetto visivo, ci aspettiamo quindi una birra scura che va dallo scuro e dal ramato molto scuro al marrone scuro, senza in teoria arrivare al nero. Questa è una definizione che già ha il BJCP, tuttavia molte delle Baltic Porter che ricordo a memoria arrivano abbondantemente nel nero e con una schiuma appunto ambrata anche in questo caso e persistente. L'aroma è ovviamente, ce lo spediamo, ricco e si spazia ovviamente dal caramello, la toffee, ai tostati, ai roasted, anche la liquirizia è consentita e anche la nocciola. Il BJCP indica che anche l'alcol può essere percepito al naso e possono essere occasionalmente consentite delle note vinose, dovuto proprio secondo me a tutta questa frutta rossa, questa frutta scura, che si combina appunto con un alcol importante. Salto un po' a fondo pagina dello stile perché è davvero molto molto dettagliata come sempre nella descrizione del BJCP e c'è la comparazione con altri stili simili e per esempio dice meno roasted e più morbida che un imperial stout manca, dice, la parte diciamo tostata tipica appunto delle stout in generale e può ricordare quel roasted but not burnt che già avevamo trovato proprio nelle Schwarzbeer che infatti qua nomina, quindi è quella roasted ma non bruciato, tostato ma non bruciato tipico delle Schwarzbeer. Quindi appunto un filo più morbido questo aspetto. Ultima cosa, secondo me interessante, possono essere moderatamente fruttate ma dice più fruttate sicuramente se comparate alle porter e ovviamente più alcol. Ho chiuso la finestra perché si sentiva un rumore non era Nazgul ma fortunatamente ho appunto la fortuna di avere un nilo di Balestrucci qui vicino e la stagione è quella giusta. Ma appunto ornitologia a parte passiamo all'apertura della birra. Ok, facciamo quindi come al solito l'analisi visiva allora partiamo quindi dalla schiuma che sì è sicuramente abbondante è un color nocciola la schiuma è, sì devo dire che è fine e regolare come al solito per andare a valutare la regolarità e la finezza delle bolle e della texture della schiuma conviene guardare la parte dove stacca appunto nella birra e inizia la schiuma e lì si può vedere bene come è composta e la birra, sì direi che effettivamente puntando alla direzione della luce sì ci sono delle note più chiare soprattutto nella parte bassa del bicchiere con dei riflessi quasi sullo rosso in realtà è un marrone davvero molto molto scuro che quasi sfocia nel nero appunto ma come dicevo prima anche se il BJCP indica tipicamente il marrone scuro ci sono tantissime secondo me Valtic Porter che arrivano ampiamente nel nero e passiamo quindi al naso allora la prima cosa interessante secondo me in questa birra è che sì effettivamente come ci ha detto il BJCP non arriviamo al bruciato spinto c'è una parte di tostato di torrefatto più che di tostato che a me più che il caffè torrefatto può ricordare un po' l'orzo ma soprattutto il cacao appunto la fava di cacao non il cioccolato di per sé ma il cacao quello fondente per esempio a livelli molto molto alti che quindi si concentra meno sulla parte dei zuccheri di latte eventualmente e di grassi eventualmente di burro di cacao ma sta più appunto sul profumo che dovrebbe avere la fava di cacao tostata per l'appunto a questo ovviamente c'è anche la parte di alcol che si sente non c'è comunque non è così evidente secondo me la parte fruttata che non è essenziale ma ricorda il BJCP più volte può essere presente questo proprio per sottolineare che già ci stiamo allontanando dalle porte delle stag dove sicuramente la frutta non è una caratteristica principale e in alcuni stili non è nemmeno consentita mentre a quel punto il BJCP ci ricorda che si può essere presente in questo caso alla prima annusata per così dire appunto non mi è sembrato di trovare questa parte fruttata si dirà che più o meno gli scrittori sono quelli c'è forse in terzo piano dopo le due cose che appunto ho già detto quindi tostato cacao e la parte alcolica un pochino di liquirizia ma questa parte e passiamo quindi al palato allora la bevuta è tutto sommato piuttosto dolce non me l'aspettavo forse così tanto dolce ma non è appunto un dolce che va che da fastidio appunto parte molto dolce questa bevuta c'è una piccolissima astringenza ma piccolissima sul finale data dai malti scuri e anzi molte stout è sicuramente più importante deve esserci nelle stout in questo caso l'alcol ammorbidisce un po' quindi magari questa è la parte alcolica appunto importante che si sente subito in bocca e deve sentirsi in una birra di questo tipo va un po' forse a tamponare questa piccolissima astringenza che c'è in fondo ed amplificare eventualmente ulteriormente la parte dolce dopo il sorso ovviamente continua a rimanere in bocca la parte di amaro amaro che comprende appunto dopo il sorso anche la parte lupolata e devo dire un amaro tutto sommato abbastanza lungo che ancora sento mentre parlo a un certo punto ho pensato che forse ci fosse dentro del lattosio perché mi ricorda qualcosa delle pastri stout o delle milk stout spesso le pastri stout sono alla fine delle milk stout quindi hanno del lattosio che addolcisce però non ne sono perfettamente convinto sicuramente questa bevuta che inizia appunto è così dolce mi ha forse fatto pensare un po' appunto alle milk stout ringrazio quindi ancora una volta Matteo per avermi mandato questa e le altre birre non ho detto niente mi sono accorto adesso sul logo che riporta con il boccal la lettera B dato che il nickname appunto di Matteo è Biondo e quindi ricorre su questa e sulle altre bottiglie anche su alcuni degli altri tappi e quindi appunto con la Baltic Porter brassata in casa appunto da Matteo che ringrazio ancora una volta a Skoll un po' che ringrazio ancora un po' che ringrazio ancora un po' sul the